Laboratori Guglielmo Marconi è una società di servizi che opera nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione o ICT come si dice. Storicamente siamo nati da una costola della fondazione Guglielmo Marconi che si trova qui di fronte in una bellissima villa del 600 sulle colline di Sasso Marconi ed è la casa dove Guglielmo Marconi giovane fece i primi esperimenti di radiocomunicazione quando ancora la materia era, diciamo così, ignota. Da lì è partito un bel po' di cose fino ad arrivare alla telefonia cellulare di oggi che ci consente di essere in contatto con chiunque da qualunque posto in qualunque momento. Noi diciamo nel solco di questa gloriosa tradizione cerchiamo di fare la nostra parte dando supporto a strutture, aziende del territorio o meno, nel senso che serviamo aziende grosso modo in tutto il centro nord-est, centro nord dell'Italia, per consentire a loro di gestire al meglio la loro infrastruttura di telecomunicazioni e poter, diciamo, operare come entità, come organizzazione, condividendo applicazioni, condividendo database eccetera eccetera. Siamo circa una settantina di persone in questo momento. Questa struttura nasce con una forte impostazione tecnica e purtroppo questa impostazione si è fatta sempre sentire anche nei criteri e modalità di selezione del personale, quindi è stato quasi sempre privilegiato l'aspetto della competenza tecnica rispetto ad altre valutazioni che invece nel momento in cui una persona entra in un'azienda dovrebbero essere presi in considerazione quali la capacità organizzativa, la capacità di comunicare, di relazionarsi con altre persone che devo dire proprio perché chi lavora qui da noi ha una forte impostazione tecnica a volte magari non è che brilla particolarmente per questi aspetti e quindi indubbiamente questa è una cosa che c'è sempre un po' mancata. Abbiamo sempre avuto una struttura molto sbilanciata sulle competenze tecniche a volte un po' carente sotto gli altri punti di vista. Ci troviamo adesso all'indomani del momento in cui la persona che ci ha curato tutta l'amministrazione negli ultimi 23 anni andrà in pensione. Sostituire questa persona che molto validamente ha svolto questo ruolo negli ultimi 23 anni come si può capire è una cosa non banale e non semplice e le aspettative erano diciamo quelle di riuscire da un lato a raccogliere un buon numero di adesione facendo pubblicando l'annuncio in modalità e secondo canali che di solito non usiamo ed avendo un diciamo un valido supporto nel fare un'attività di scrematura delle candidature ricevute che indubbiamente è diciamo così una fase della selezione del personale che di solito non non affrontiamo internamente perché come dicevo prima queste verifiche sul possesso dei requisiti da parte dei candidati viene diciamo fatta direttamente dal nostro personale tecnico che verifica il grado di preparazione dei candidati. In questo caso avevamo bisogno di un supporto che ci aiutasse a valutare correttamente le candidature che ricevevamo e a portarci ad una fase di colloquio poi in cui anche noi come diciamo titolari eravamo coinvolti in una seconda fase avendo già individuato un piccolo gruppetto. Abbiamo apprezzato moltissimo il fatto che appunto sono arrivate molte candidature in un tempo abbastanza breve e che il diciamo il processo di successiva scrematura è avvenuto in tempi abbastanza rapidi coinvolgendoci solo alla fine nostro punto di vista la valutazione è molto positiva tant'è che poi abbiamo proposto a Cristina di darci supporto in un progetto più ampio che diciamo è iniziato nel frattempo e che occuperà sicuramente i prossimi almeno 18 mesi di diciamo così revisione della nostra organizzazione aziendale messa a fuoco dell'identità aziendale definizione di ruoli e obiettivi per ciascuna delle persone che lavora con noi in modo da diciamo rendere l'azienda un po più strutturata se invece confrontiamo l'approccio di Cristina quello che abbiamo visto in passato da aziende che fanno recruiting di professione devo dire che siamo stati molto molto soddisfatti dalla sua attenzione professionalità e dedizione molto contenti consiglieremo molto volentieri diciamo c'è un continuo dialogo anche diciamo per il nuovo progetto che stiamo portando avanti insieme c'è un confronto continuo un dialogo continuo in cui noi sicuramente impariamo molte cose diciamo fortunatamente siamo consapevoli del fatto che ci mancano dei pezzi e quindi viviamo questa cosa nel modo giusto cioè come un arricchimento da parte di una persona che si occupa per professione di cose di cui noi siamo poco poco competenti e che ci aiuta a mettere a fuoco gli aspetti che della nostra vita aziendale sono importanti che finora magari hanno ricevuto meno attenzione di altri quindi sicuramente sì grazie a tutti grazie a tutti